La gara di oggi Si è disputata oggi la Louisiana al Cienero by Christian Evans con Formula 18 Buche in Louisiana due giocatori, Steppleford e i premi sono gentilmente offerti dalla Christian Evans, ti ringraziamo Grazie Premi dottor Fernando Damiani presidente del Golf Club Puntana Buonasera a tutti finalmente dopo l'acqua di ieri qualcuno l'ha presa ieri di voi oggi è una bella giornata io sono contento perché il campo dopo tanta pioggia perché stanotte ha piuuto veramente tanto avete visto i danni sulle stradine esterne però il campo, a parte qualche banca il resto è andato bene sicché siamo soddisfatti anche di questo la giornata è stata bella e complimenti naturalmente a tutti i partecipanti e in particolare ai vincitori mi fa piacere anche cominciare a dire ora da queste gare che noi abbiamo un calendario invernale che sarà molto bello sarà un calendario proprio degno di Puntala perché abbiamo gare con premi importanti perché io credo che spesso abbiamo fatto che diamo in tanti circoli gare con premi un po' banali che non sono degni delle gare ricorse e allora noi abbiamo deciso di cominciare a dare una svolta quindi inizieremo già con il 3 di novembre con una gara dove avremo bottiglie di Sassicaia in premio per il primo Lord e i primi Nenti quindi tutta la cantina di Sassicaia che sarà il sponsor nostro ma saremo noi lo sponsor della cantina è uno scambio che ci facciamo proseguiremo poi con altre gare importanti abbiamo parlato ieri con il nostro socio Antinori quindi faremo gare anche con i vini della cantina Antinori ma tutti i vini di alta faccia oppure gare dove metteremo in premio i prosciutti interi salami roba che non sia un sordo piantino semplice ma vogliamo dare un po' di importanza anche agli incisori veramente uno stimolo in più a fare un colpo in meno insomma ecco questo credo che sia importante va bene Costantino infatti oggi non ha giocato perché mi riservo per le gare importanti comunque si può procedere alla premiazione e l'appuntamento è per il sabato costo il sabato prossimo abbiamo una stepbook individuale procediamo con l'assimilazione dei premi iniziando con la seconda coppia netto che è vinto da Fabio Matti e Leonardo Enzoli con 47 punti grazie una bella foto eccolo qua perfetto la prima coppia mista è vinto da Luigi Zani e Sania Zubis ricordiamo che la prima coppia mista si qualifica per la finale Cristiano D'Arcenelo di venerdì 2 novembre 2018 al golf club Argentina la prima coppia senior se la giudicano Stefano Bucarelli e Cesare Dragonico con 47 punti i voucher sono attaccati ecco della finale lì un attimo e l'hanno fatto anche sempre perfetto fatto il primo la prima coppia netto è Massimo Fanti Leonardo Mario Di Fante Mario Di Fante con 49 punti grazie Mario Di Fante grazie infine il primo il primo il primo che ha vinto da Daniele Pierotti Marco Toglierini con 38 punti bravi 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 e lo so ma visto il fuori e anche per voi il finale Matisse di Catossa il 23енное grazie trovo trovo il primo grazie perfetto grazie 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 grazie